Matteo, devi tornare a casa con i mezzi. Perché? Ho denunciato il furto dell'auto, ma adesso devo farla sparire. Ma non mi devo più costituire? Ti ricordi la gang dei latino sulla quale ho indagato, i Silva? È uno di loro che ha investito. Se vengono a sapere che sei stato tu, che sei mio figlio, ci mettono un minuto a vendicarsi. Ti farebbero del male. Papà, hai mentito la polizia? Sì. Ho paura per te. Quella è gente davvero pericolosa. Nessuno deve sapere quello che è successo. Hai capito? Nemmeno la tua ragazza, nessuno. Tutti devono sapere che l'auto è stata rubata. Al resto ci penso io.